L'Abruzzo si conferma una meta turistica di grande attrattiva come dimostrato dai dati incoraggianti registrati durante le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e del primo maggio. Un contesto che fa besperare per la stagione estiva oramai le porte e su cui gli operatori turistici stanno già ricevendo prenotazioni. Le aspettative sono positive rispetto ai report che otteniamo dai nostri associati che ci fanno sapere l'andamento e il dinamismo delle richieste. Il brutto tempo non è stato il nostro complice nei ponti da Pasqua in poi, sicuramente sarebbe stato utile per poter avviare anche in una logica di buon auspicio la stagione. Penso che il corpo centrale sia comunque soddisfacente, non è sufficiente sicuramente per le esigenze delle aziende, i costi delle aziende turistiche soprattutto sono veramente amplificati. La pille della nostra regione si basa su un mix di fattori irresistibili, cibo prelibato, ricchezza culturale e paesaggi naturali mozzafiato. Numerosi turisti stanno infatti scegliendo l'Abruzzo come destinazione ideale per immergersi in un'esperienza autentica e ricca di emozioni. Tuttavia, secondo il presidente di Federalberghi Abruzzo, Gianmarco Giovannelli, c'è ancora molto da fare per attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e ridurre la dipendenza dalle classiche stagioni turistiche. C'è bisogno di fare un progetto, un programma infrastrutturale determinante. Abbiamo evidenziato alla regione questa emergenza ma anche alle altre forze politiche affinché ci sia una consapevolezza unitaria sul fatto che questa è una regione che attraverso un piano infrastrutturale importante può dare anche le opportune possibilità di allungare le stagioni, incrementare i fatturati, dare anche tutto quello che è una regione limitata in molti casi sulla mobilità interna verso le altre regioni ma anche sulla capacità di attrarre eventi o cluster di domanda turistica anche internazionale. Tutto ciò avviene attraverso un piano infrastrutturale di una certa rilevanza.